Un giallo che non segue i canoni tradizionali del genere ma che corre lungo binari inediti dove la provvidenza, il libero arbitrio e il dolore si fondono in un'intricata vicenda giudiziaria a cui fa da sfondo la Puglia degli Uliveti ma anche di una criminalità capace di insinuarsi nel tessuto agricolo. Mezzanotte nell'Uliveto è il titolo del primo romanzo di Fernando Sicuro, edito da Manni e presentato al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce. Il racconto prende le mosse da un letto d'ospedale da dove l'infermo colonnello romano narra alla moglie i dettagli di una difficile vicenda giudiziaria risolta anni prima in Puglia. Salentino Doc, vicecomandante provinciale dei Carabinieri di Lecce, il tenente colonnello Fernando Sicuro dopo aver operato in Campania, in Piemonte e in Puglia ha deciso da appassionato lettore di libri di intraprendere con umiltà anche l'esperienza dello scrittore. È una storia, è una storia di fantasia senza altro in cui di autobiografico ci sono solamente le emozioni che io ho voluto inserire nel libro. Se queste emozioni possono essere trasmesse il libro sicuramente avrà raggiunto il suo risultato e io credo di essere riuscito in questo perché qualche riscontro in questo senso l'ho avuto. Sono le emozioni che mi interessa trasmettere, non il fatto in sé. Il fatto in sé è un fatto ordinario, potrebbe essere un fatto come un altro, forse anche di scarso interesse. Ma se non c'è l'emozione attorno ad un testo, il testo secondo me non vale la pena di leggerlo. Grazie. 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 Grazie.